Il mio collega Viaggia ha fatto una carrellata di quelli che sono gli aspetti più o meno tecnici degli strumenti per la bioprotezione. Da parte mia vedrò quelle che sono le conseguenze della bioprotezione. La bioprotezione per esprimerlo in concetti pratici è qualunque azione naturale il cui scopo è quello di mantenere, preservare o evitare o rendere comunque più difficile il deterioramento di un prodotto, in questo caso il vino. Quindi abbiamo utilizzato la bioprotezione in forma più o meno spinta, sempre utilizzando dei lieviti spinti, lieviti selezionati. Abbiamo utilizzato il piede cuva, abbiamo cercato anche il modo di orientare, dirigere la conservazione del vino. Il principio di base della bioprotezione è un'esclusione di tipo competitivo. Se metto un lievito selezionato, sappiamo che il suo sviluppo, lo sviluppo di questa popolazione di per sé evita lo sviluppo di microorganismi che non ci interessano. Questa fotografia è un esempio pratico. Lo stesso mosto, quello di destra è stato inoculato con Nova, con il lactobacillus, e quello invece di sinistra l'abbiamo lasciato tale quale. E come potete vedere chiaramente a sinistra vediamo la comparsa di muffe, di funghi, mentre invece quello di destra è integro. Cos'è che ci dà nel vino la bioprotezione? Vedete gli effetti pratici, abbiamo una minor quantità di solforosa che viene utilizzata, quindi quelle tecniche che utilizzano dei lactobacillus sono appunto finalizzate alla produzione di vini senza solfiti. Quindi si ha anche una minor quantità di amine biogene, quindi vini più salubri. E come diceva Lorenzo, abbiamo meno amine biogene semplicemente perché non si hanno i precursori che danno luogo alla produzione successiva di amine biogene. Si hanno vini anche più limpidi, vini che non hanno né putrescina né cadaverina e quindi che risultano anche più sani sostanzialmente. Attraverso la bioprotezione e l'associazione di diversi bioorganismi che lavorano in modo sinergico e concomitante, possiamo avere anche una minor alcolicità dei vini. Sono state fatte diverse prove in cui si sono utilizzati il lactobacillus plantaro associato ad una lacancia ad alte dosi con cui si è riuscito a ridurre la gradazione di quasi un grado. Quindi una minora quantità di ocratossine, come abbiamo visto prima, mantenendo attraverso l'aggiunta di lato bacillis, se riusciamo a evitare l'attecchimento di funghi, evidentemente ci sarà meno cratossina. Una minor quantità di nitrosamine. Quando abbiamo le amine biogene e ci sono delle fonte di nitriti nel mezzo, c'è il rischio che si sviluppino delle nitrosamine che sono dei precursori cancerogeni. E poi una miglior quantità e qualità di aromi, che è probabilmente l'aspetto che interessa maggiormente l'enologo. Quindi quegli microorganismi che aggiungiamo generano quegli esteri che vengono ritenuti interessanti per il profilo aromatico dei vini. E poi abbiamo un minor intervento dei microorganismi contaminati proprio per il meccanismo che spiegavo prima, ovvero sia questa occupazione competitiva allo spazio. Quindi si ha minor sviluppo di aromi sgradevoli che comportano una diminuzione del valore e della gradevolezza del vino. Il vino invece presenta più note fruttate, quelle note apprezzate dal consumatore odierno. Nel grafico vediamo anche gli effetti pratici, in che modo ci può aiutare l'utilizzo di un lato bacillus al momento di migliorare o mantenere la fermentazione alcolica. Questo è un esempio alla mancia, un anno in cui all'inizio abbiamo avuto dei problemi di patologia che hanno condizionato la vendemmia e qui abbiamo dovuto inoculare più volte perché non si riusciva a portare a termine la fermentazione. Quindi vedete il pH è normale per la varietà IREN, la quantità di solforosa è normale, però tutto quello che è marcato con NOVA. Vedete la differenza rispetto al controllo. L'impatto della Botrytis cinerea e la comparsa di Aspergillus niger è nettamente inferiore. Quindi alla fine vediamo che hanno dei vini che portano a termine la fermentazione con maggior facilità e hanno anche una qualità organolettica superiore. Abbiamo parlato anche della produzione di aromi. Questo è importante quando si utilizzano lieviti non saccharomyces finalizzati alla bioprotezione fin dal momento, fin dal primi momenti. È interessante vedere quello che possiamo avere da un punto di vista aromatico. In alto a sinistra si vede che per l'attività beta-aliasi di frozen, quindi della picchia, è in grado di generare una maggior quantità di tioli rispetto al controllo. E poi per quanto riguarda altri composti come l'otanoato di etile o il butirato di etile, vediamo che si ha una quantità mediamente superiore di esteri rispetto a quello che è il controllo. In questo grafico abbiamo cercato di vedere quelle che sono i diversi ceppi non saccharomyces, frozen che è il nostro ceppo picchia, prelude che è la nostra terlospora e concerto che è la cancia termotolerans e poi Melody che è un mix di saccharomyces e non saccharomyces. Come vedete le caratteristiche sensoriali che vengono evidenziate da questo diagramma ci danno già delle informazioni utili. Ad esempio sembra che il concerto ci dia una maggior quantità di acidità, delle sensazioni più fruttate, meno amaro e questo è legato al fatto che la cancia termotolerans, come sappiamo, ha la capacità di metabolizzare lo zucchero generando acido lattico. Quindi questo innalza il pH, ci dà questa sensazione di freschezza nel vino prelude, che è il nostro ceppo torolospora. Vediamo perfettamente che in questo caso si ha percezione di maggior corpo e di maggior morbidezza e invece una diversa acidità e vedete questo è dovuto alle manoproteine nella fase della lisi. E infine frozen che è il nostro ceppo picchia. Vediamo che in questo caso c'è un impatto sia sull'acidità che sul carattere floreale, proprio per l'attività delle pettine e delle betaliasi. Questa prova è stata fatta con la varietà Bobal nella zona della Mancia in Spagna. In questi due diagrammi possiamo vedere perfettamente che la bioprotezione può avere un'influenza decisiva sulle caratteristiche organolettiche del vino. Vediamo in blu che è un vino elaborato con inoculo seguito poi da un inoculo di Saccharomyces e non Saccharomyces. Vediamo che in questo caso il profilo aromatico è nettamente superiore rispetto a quello del controllo, sia per percezioni come la frutta o la fragola. In questo caso stiamo parlando di un vino Tempraniglio. In questo profilo, in questo diagramma, questa è stata una prova che abbiamo fatto su Tempraniglio, lavorando in modo concomitante con un lato bacillo ad alte dosi seguito da una lacancia a termotoleranza anche essa a dosi elevate. E l'abbiamo confrontato con una cerevisie. E vediamo che nel caso della lacancia incontriamo una maggior rotondità del vino, riscontriamo una morbidezza di questo vino, sostanzialmente un vino con caratteristiche organolettiche nettamente superiori rispetto al controllo. e a questo, in questo caso specifico, siamo partiti da uva di 14 gradi di alcol potenziale e siamo arrivati a un vino con 13,2. Quindi si è riusciti anche ad avere una diminuzione dell'alcolicità. Questa è un po' una sintesi di quello che è la bioprotezione e la bioprotezione ci dà nel corso delle lavorazioni vini più salubri e credo che questo corrisponda ad una tendenza al mercato sia attuale che futuro. Quindi vini più sani con una minor quantità di amine biogene. quindi io faccio consulenza in diverse cantine e i nostri clienti ogni volta appunto esprimono questo desiderio. Quindi veno con meno amine, amine biogene, ci sono dei paesi che già pongono delle soglie, dei limiti per le amine biogene e anche meno solfiti. Negli ultimi anni si ritiene che l'uso della solforosa sia stato esagerato. Adesso si cercano vini con meno solfiti, più sicuri quindi con meno amine, meno nitrosamine e poi naturalmente il mercato ci richiede anche vini più rotondi, morbidi, meno astringenti, con meno note vegetali e quindi l'utilizzo diciamo della bioprotezione è in linea con le richieste di tipo anche ecologico. Quindi questi vini devono essere anche più puliti, più brillanti e devono essere anche facili da conservare. E con questo vi ringrazio della vostra attenzione. Se avete delle domande sono a vostra disposizione.